musica 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 nooo coricco sei morto vuoi contestarmi no 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 brother che bello pompa è qua davanti a me continuo ad avere un pompa io però va bene one shot ah volevo andare a prendere la card dell'amico questa nebbia scusa non è perché siamo fuori dalla zona viola con il fantasma no io sono senza ora ma è milano palesemente milano in inverno minchia raga non ho mira vi giuro cioè non riesco comunque l'OG mi fa veramente sboccare con lo extra zoom si è amore vedo la testa davanti lo schermo lo lascio vedere dopo va schifo vedi qua davanti le scuole 41 bene amore ma stanno scappando veramente no si è fermato no si è fermato oh si è scinata si è scinata ancora si è scinata ancora dai che parte ma per lavare i denti stiamo parlando di lavaggio dei denti in modo particolare allora va bene allora dico la mia parte praticamente levavo il cosino per lavare i denti quindi c'era tipo il cazzettino di ferro che dava fastidio ovviamente quello là non lo toccavi e tu mettevi dalla parte di sotto da dove lo caricavi cioè ho già vivamente amore non è che esattamente perché i miei denti sono molto molto resistenti diciamo che serviva sotto era interessante la cosa eh mi prova veramente ma si certo si certo poi la cosa più interessante è stata invece quella per pensate tipo il coso che risucchia tipo i punti neri si quello lì l'ho comprato per i punti neri per il naso e un giorno ho avuto l'abbigliante idea di provarlo per altre cose sto parlando dalla parte che risucchia ovviamente è stata interessante ah ok beh ci sono tecniche interessanti ma veramente non sto parlando di una di sessuale sto parlando di le vari punti neri si ovvio abbiamo capito non racconterei mai cose mie così in pubblico ah si igiene orale madonna di dio cioè nel senso voi non mi pulite di io il tempo fa mi pulivo i denti sempre con lo spazzolino normale poi il dentista mi ha consigliato quell'elettrico l'ho visto però quell'elettrico non mi è piaciuto mettici un ca quello sinistra 22 sì sì rome va bene mi hanno rotto il cazzo di push pass mi sto andando troppo tempo fermi tanto non possono cecchinarmi no 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 guarda sinistra che c'è l'altro chi sa Vabbè, sei un diemone Amore, minchia, il charge Te l'ho detto, è troppo divertente Sai che forse non avevo lo spas per... Sì, lo preso, lo preso Sì, sì, c'è l'oro poi, figurati Amore, mi fai... Amore, no, no Voglio un abbraccino Pezzo di c***o, pezzo di me No, muove Ma cosa c'è quello a fare, amore? Non ho la più palla di idea Non credo Posso entrare dentro? Ok, sì, è palesemente un rift, amore Ma? Oh, oh, oh No, amore, amore Eh, ci siano i morti E voglio ucciderli Adesso la testa No, 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 no Rientra nel rift, amore Uccidiamoli, dai Ma perché? Cos'è sta zona? No, 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 no No, 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 no victory ok ho capito ah c'è le shadowbombe e i fucili che però io ah le nade eh si è la sopra giusto? me lo confermi sicuro? sono lì no 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 cazzo è sposa vicino amore lo so perché si è spostato quindi allora la 6 di là in realtà ho una jump volendo ma ce l'ho lasciato mamma amore dov'è? qua per terra meglio di così ma perché corro così? ma perché vola così tanto il mio? ho fatto un maniopo strano ho fatto un maniopo strano tipo io? ecco di qui amore non fettarli vanno finito i fight arrivo mi ha visto? what? vada vada 2 vada 2 di nuovo tu sarò sento i mazzi io che mi ha sparato? vada dietro è il bush ero cattato questo è lo spasto mi sembra bello demone da solo ma c'è c'è uno sotto io sento è lui è lui è lui è bello demone secondo me sta camperando? dai demone di sta minchia mi ha tappato bene vada giù muore va bene non è bello l'umore dello scar silenziato mamma mia ma quelli che stanno muovendo? sono rimasti mi stavano vecchia signo se vuoi faccio una jump se vuoi jumpare mi ripetiamo in bocca vai andiamo a prendere? vai masse mi sto sparando mentre sono in volo guarda io è sceso un minimo lui bene vuoi uno shield o una marea ce l'hai? me lo son fatto adesso ho finito le cildoni te ne posso dare uno se vuoi tranquillamente tieni dove sei? scendono scendono more 48 non sto bruciando io sto solamente padano hanno lasciato la building hanno lasciato la building è nostra ma sotto è praticamente spaccato amore 23 23 23 io l'ho silenziato a distanza è veramente dog shit comunque oh mio dio lì dici un cacca da mare bianco oh dio c'è quattro capi c'è quattro capi quale? al mio vinga al mio vinga là dentro ci sono anche gli altri cacca da anche l'altro amore ma la safe 21 quella in fondo amore perché stai busciando? non hai detto tu buscia? no amore ho detto abbiamo la 50 prima no amore arrivo sei sola sono in fondo gli altri dove? tanking arrivano gli altri padano 27 25 25 io la jumperò comunque fatta padano no vieni ci abbiamo anche una vieni con me per regolarmi un attimo che sono vai andiamo alla building mi sa che proprio addosso non mi interessa amore ragazzi mio morti mio morti mio morti mio è un cavaliere o amore? eh a me io ti noto nel box a questo è morto basta che non mi entri nel box l'ho massacrato però il mio è morto solidissimo il charge ragazzi fatta solidiamo cavaliere nero amore voglio non salire metto 24 con calmo amore giochiamola con calmo ok una bocchitata amore 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 morto quale? amore amore è morto lo sparavent io lo prenderei ma non lo voglio prendere cacene uno sopra ah sopra di noi no no amore uno sopra e uno di fronte a noi basta sono due singoli aspetta amore ti scuoco tutto scuoco 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 ha preso la jump bianca anche tu bianca anche tu è bianca amore l'ho craccato scuoco 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 Mamma mia Avevo jumpato per like Easy Madonna ragazzi Se vince mi salvo Ecco la win La win black E se fa vedere Vinzi in realtà Minchia raga Mamma mia Quasi 6.000 danni